Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlare di un personaggio importantissimo per il motociclismo. L'avete visto già dal titolo, parliamo di Massimo Tamburini. Massimo Tamburini nasce a Rimini il 28 novembre 1943 e nasce in una famiglia di contadini. Poi il padre deciderà di intraprendere un'attività commerciale o industriale e si trasferiranno a Rimini dove lui inizierà l'istituto tecnico industriale. Tra l'altro non lo finirà neanche perché per motivi di salute poi farà altri corsi, è appassionato di meccanica e quando è più grande mette su anche un'azienda insieme a altri due soci che si chiama la Bimota e si occupa di impianti termici. Poi allo stesso tempo, siccome ha questa passione per le moto, comincia la trasformazione di una moto già esistente che era la MW Augusta 600 Turismo 4C e fa una special. Questa special va ad assomigliare alla moto che utilizzava Agostini, quindi una moto ufficiale da gara e riesce a farla molto simile. Questa moto piacerà tantissimo, tant'è che viene venduta poi a una persona di Modena. A quel punto riprende la sua attività come persona improprio e si dedicherà alle Honda CB750 Fore. Inizierà una piccola produzione e a quel punto metterà su un'altra azienda che sarà la Bimota meccanica soltanto con un socio. Quindi un socio rimarrà nell'altra società mentre invece quest'altro entrerà con lui e costruiranno questa società. Anche se lui fonda la Bimota ed è proprio un socio fondatore, poi nel 1983 ne uscirà, per due anni si dedicherà alle gare e poi nel 1985 a quel punto entra in Cajiva. I fratelli Castiglioni lo chiamano per disegnare delle moto proprio per Ducati perché la Cajiva in quel momento lì aveva comprato la Ducati. Per cui il nostro Tamburini disegnerà la Ducati Paso che stilisticamente è un salto. Prima non c'erano moto di quella fattura e da lì uscirà la Ducati 851, la Ducati 888. Io queste moto me le ricordo proprio quando ero piccolissimo, mi ricordo queste moto rosse bellissime, ma soprattutto e qui ero già più grande, le Ducati 916 e poi la 996. Le due 916 e 996 erano molto simili. Si è occupato anche delle cilindrate minori. Per quanto mi riguarda, soprattutto con la Mito, è quella che quando io avevo 16 anni era la moto che andava per la maggiore o perlomeno era la moto anche più sognata. La Mito si basava sulla Cajiva C8-9 che correva e era guidata da Randy Mamola. La C stava per Cajiva 5 perché era 500 e questa moto correva nell'89, quindi gli ultimi due numeri derivano da questo. Non finisce qui la storia di Tamburini. A metà degli anni 90 la Ducati passa di mano, viene comprata da un fondo americano e a quel punto lì lui va via. Non ci sono più i fratelli Castiglioni e lui va all'MV Augusta. All'MV Augusta nel 1997, questo è un progetto che probabilmente aveva già buttato giù per i fratelli Castiglioni, ma fa nascere la famosissima F4. Ecco, sulla base dell'F4 c'è anche l'MV Augusta brutale. È una moto, una moto di lusso, una moto stupenda, è una moto che praticamente oggi è la base della bellezza delle moto naked. Ecco, io credo che sia un po' la principessa, ecco, fra tutte le... Oggigiorno, quindi sono passati, guardate lì, la LF4 del 1997, l'MV Augusta brutale sicuramente viene dopo, ma anche oggi è sicuramente una moto che rappresenta, ecco, diciamo così, la bellezza, anche come materiali era proprio ricercata, costava anche cara, questo me lo ricordo bene. Ecco, nel 2008 l'MV Augusta passa di mano all'Harley Davison e lui un'altra volta esce. Il 6 aprile del 2014 morirà Massimo Tamborini, ma ci lascia un tesoro, ci lascia... è lui, sono queste persone qui che vanno ricordate, sono queste persone che ci fanno grandi agli occhi del mondo. Noi siamo soltanto una piccola nazione, abbiamo tanti problemi, ma abbiamo un passato motociclistico, come abbiamo un passato nelle auto, nella meccanica in generale. Ecco, Massimo Tamborini è stato una persona che ha contribuito a far sì che noi oggi siamo considerati nel mondo. Finalmente siamo in grado di partire con i corsi sulle tecniche di guida su strada, quindi per quelli che fossero interessati vi metto qui sotto l'indirizzo mail stefanocecchini1-gmail.com. Ricordo che il costo per l'intera giornata di corso è di 200 euro. A questo punto se vi è piaciuto il video mettete un like come sempre e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!